La prima finalista che accede alla finale nazionale di Venezia di Miss Red Carpet è Benedetta Candido. Benedetta Candido, 17 anni. La prima finalista che accede alla finale nazionale di Venezia di Miss Red Carpet è la prima selezione di Miss Red Carpet. E da qui a settembre ce ne saranno ancora molte per arrivare alla finale nazionale a Venezia da Giosquillo. Arrivederci alla prossima puntata. Hello mondo, ciao Italy, benvenuti alla finale nazionale di Miss Red Carpet. Tutto è pronto, talento, musica e creatività da Giosquillo. Buona visione a tutti. Partiamo subito dalle ragazze che chiamo Stefano Cecchetto, sono pronte? Manda lei in passarella. La numero uno è Benedetta Candido. Benedetta Candido. Si classifica terza con la fascia Miss Kings. Abbiamo visto la passarella di Miss Red Carpet. Sogni, desideri e tanto talento. Da Giosquillo. Arrivederci alla prossima puntata.